Praticamente il simposio si erge in alto sul colle, a metà del colle state a sentire pezzine. Il simposio del metallo si alza sul colle e la sera viene illuminata da pari allucinanti tanto per vedere il simposio e noi saremo tutti racconti lì, amici come fratelli. Capito? Tutti lì come fratelli, però più giù del colle c'è Cristo che è diventato un giornalaio e Cristo vende Bibbie usate! Sotto il colle c'è un paese dove ogni sera c'è un uomo che si fa inchiodare le mani sul proprio portone per ferire il tramonto di Cristo! Grazie!